E' stato inaugurato ieri sera nei locali del Centro Sociale Barra il centro polivalente situato nella frazione Salitto di Olevano sul Tusciano. Uno spazio riqualificato con fondi regionali riconsegnato ai giovani e alle associazioni del territorio. Finalmente si rinauguriamo il nuovo centro polivalente in Barra, finanziato dalla linea benessere giovani, quindi col progetto Giovani sul Tusciano, dove raccoglie le idee di tanti giovani olevanesi, quelle di valorizzare i prodotti tipici locali e portarli sull'e-commerce che ormai, a quanto abbiamo capito, è il futuro dell'economia mondiale, calcolando che già il 20% del fatturato mondiale si basa sull'e-commerce. Noi stasera inauguriamo, abbiamo un'aula multimediale, un ufficio co-working dove i giovani potranno progettare, si sa tutta a loro disposizione in modo gratuito e abbiamo un'aula di formazione dove si svolgeranno i laboratori di benessere giovani. Ma voglio precisare solo una cosa, questa è una formazione anche disponibile per le associazioni locali del territorio, quindi possono svolgere qualsiasi tipo di attività facendo una semplice richiesta al Comune o quantomeno organizzarsi con l'associazione capofila che gestirà per i prossimi due anni il centro polivalente. Un bel progetto che si concretizza ed è bellissimo vedere che le iniziative che la Regione Campania sta portando avanti trovano nella realtà questa esecuzione. Qua a Dolevano si dà l'opportunità ai giovani di ritrovarsi in un centro polivalente, di fare attività di informatica, attività teatrale, attività culturali, un vero e proprio centro di aggregazione giovanile che consente ai nostri giovani di avere punti di ritrovo e di confrontarsi con gli altri. Questo grazie al progetto Benessere Giovani, ad un'intuizione della Regione Campania che continua a dimostrare che vuole dare valore non soltanto ai giovani, questa generazione che in grande difficoltà e che non ha opportunità, ma anche e soprattutto grande attenzione alle aree interne, le aree più periferiche della nostra Regione che meritano sempre più attenzione.